Un obiettivo centrato al di là di quelle che poi sono tutte le polemiche, le critiche del caso, che non mancano mai? Ma sì, ma qui un po' è critica, insomma, qualche giudizio. Io credo che i nostri tifosi, la nostra gente si possa ritenere soddisfatta per aver ancora una volta centrato l'obiettivo, esserci salvati, averlo fatto anche bene, togliendoci qualche soddisfazione. Poi è normale che qualcuno magari vuole sempre qualcosa di più, ma fa parte del calcio. Meglio comunque il calcio reddittizio del bel gioco che poi magari non ti porta i risultati. E un'altra cosa, mister, il bel gioco alla fine paga anche a livello di risultati oppure non è sempre così? Non ho mai conosciuto una squadra che riesce a vincere senza giocare bene a calcio, è impossibile. Se tu non giochi a calcio puoi vincere una partita, ne puoi vincere due, ma l'obiettivo non lo centri. Questo sia chiaro. Poi se uno parla tanto per parlare, dice, vabbè, ma non abbiamo giocato bene. Poi cosa significa giocare bene? A volte vorrei chiedere. Io penso che l'Atalanta ha fatto buone partite e altre le ha fatte sbagliate. Ma l'ha fatto anche la Juve. Cito la Juve perché ha vinto lo Scudetto. Per quanto riguarda il futuro di alcuni giocatori che quest'anno si sono visti un po' a corrente alternata. De Luca, Morales che l'anno scorso era dato molto bene, quest'anno ha un po' mancato quella che viene definita la consacrazione e Livaia che ha dato qualche altro problema di carattere disciplinare. Morales ha fatto subito bene, ha fatto un buon campionato lo scorso anno. Quest'anno onestamente ha avuto un rendimento meno importante di quello dello scorso anno. Anche se poi c'è da dire che anche in questo campionato ha fatto delle buone gare. Però sicuramente il rendimento non è stato pari a quello dell'anno successivo. Però è un ragazzo che noi vogliamo recuperare, insomma, è un ragazzo giovane, è un ragazzo che sta a giocare a calcio, quindi ci sarà da avere pazienza e da cercare di ricostruire un certo tipo di discorso. De Luca è un giovane che l'anno scorso ha fatto il primo campionato di Serie B. Lo abbiamo preso perché abbiamo visto che aveva delle cose giuste, ha giocato anche parecchio perché nel primo anno di Serie A solitamente non si gioca così tanto, ha fatto la sua parte. Per un periodo è stato fuori perché avevamo altre necessità. Livaia ha idem compadate con la piccola postilla del discorso caratteriale che deve cercare di cambiare. Se lui riuscirà a cambiare questo aspetto caratteriale, credo che potrà proporsi in questo campionato bene, ma addirittura con squadre anche più importanti perché ha le qualità per farlo. Però se le qualità morali, che sono molto più importanti, andranno a intaccare quelle che sono le qualità tecniche, farà molto fatica. Grazie a tutti.